Ciao a tutti, siamo alla Biblioteca Archimede perché dall'8 al 15 ottobre si svolgerà il Festival dell'Innovazione e della Scienza di Settimo Torinese. Con noi avremo anche due associazioni, Mupin e Forum Donne. Inizieremo ovviamente col Forum Donne e Natascha Molino che ci presenterà, ci racconterà la vita della sua associazione. Natascha, quale ruolo hai in questa associazione? Io sono la Presidente del Forum Donne di Settimo, è un'associazione che agisce in sinergia con l'amministrazione comunale e in particolare con l'assessorato alle pari opportunità. Avete altre associazioni, collaborate con altre enti? Sì, noi siamo un'associazione di associazioni in realtà, siamo composte da varie realtà. Da noi si possono iscrivere enti pubblici, associazioni, fondazioni, gruppi informali. L'importante è che abbiano almeno una rappresentanza femminile dentro il loro gruppo e che anche se non parlano direttamente alle donne, abbiano nel loro focus la parità di genere. Quali sono le finalità di queste associazioni? La nostra finalità è quella di promuovere l'uguaglianza di genere attraverso una promozione culturale e sociale affinché tutte le donne possano rientrare nella vita sociale, pubblica ed economica e avere una posizione nella società. So che avete fatto tante iniziative, me li puoi raccontare? Particolarmente importante è la manifestazione che facciamo per il 25 novembre che è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Noi come forum abbiamo sempre organizzato il corteo nelle strade cittadine e eventualmente poi facciamo o con il teatro o con la biblioteca un'iniziativa rivolta alla cittadinanza per sensibilizzare su questa tematica. Facciamo cortei, facciamo eventi teatrali, presentazioni di libri, mostre e anche eventi più ludici e sportivi. Spaziamo in varie tematiche, dalla violenza di genere alla bulimia, a parlare dei tumori, a parlare anche di cose come i consultori, e quindi tematiche un po' più strette a femminile, ma anche di donne mafia e quindi rivolte ad entrambi i generi. Ultimamente abbiamo fatto invece una cosa più sportiva e più ludica che è stata una gara di bocce. Parteciperete quindi con il Mupin a questa iniziativa? Come vi siete incontrati? Cosa farete? Allora, l'anno scorso parlando appunto con chi gestisce il Mupin, ci è venuta l'idea di fare un'iniziativa per l'Ada Lovelance Day. Non l'avevamo mai fatto come forum e allora abbiamo deciso di creare un evento insieme, in sinergia, portare una tematica che è normalmente prettamente vista al maschile, far conoscere invece che grazie a loro la realtà anche al femminile. Abbiamo quindi deciso di fare questa iniziativa, l'abbiamo proposta al Festival dell'Innovazione della Scienza che ci ha detto sì, venite e noi siamo qua. Passiamo al Mupin con Elia Belussi. Elia, tu quale ruolo hai in questa associazione? Sono presidente e sono stato fondatore nel 2011 di questa associazione di volontariato che ha come scopo quello di creare un museo, il Museo Piemontese dell'Informatica. Quali sono le vostre attività? Come si svolgono? Noi abbiamo come attività principale quella di recuperare e di preservare materiale storico informatico e di fare divulgazione sul tema, quindi tutto quello che può essere da eventi a mostre, a workshop legati al tema della storia dell'informatica e di come questa ha influito sulla società dall'inizio degli albori fino ad oggi. Durante quelle iniziative del Festival presenterai, diciamo, l'Adda Day in un certo senso, sarà incluso in quell'attività. L'Adda Day cos'è? Perché tutti non sanno di cosa si tratta. L'Adda Lovelace Day è un evento nato nel 2009 in Inghilterra e a cui il MUPIN è aderito sin dal 2012, partecipando ogni anno con iniziative, ed è un evento dedicato alle donne e ai loro successi in ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico. Ok, quindi è per questo che avete fatto questo incontro con il Forum Donne per giustamente parlare di donne. Sì, assolutamente sì, perché per noi è molto importante la parità di genere in ambito informatico in particolare, ma anche in ambito scientifico in generale e aderendo a questo evento che tra l'altro è dedicato alla prima programmatrice della storia, riteniamo di poter contribuire nel nostro piccolo a far sì che ci siano sempre più donne in questi ambiti. Ci vediamo al Festival dell'Innovazione della Scienza domenica 15 alle ore 14.30. Vi ricordo che per partecipare bisogna iscriversi, cliccate su Everbright e trovate il nostro evento. A domenica!